Buongiorno, siamo qui con Giussi, Fabio, Alla, Cartolab l'Ottovolante. Dove si trova il Cartolab l'Ottovolante? Via Cesare Balbo, 13A. A Torino. Torino, sì. Allora, Fabio, cos'è il Cartolab l'Ottovolante? Il Cartolab l'Ottovolante è un punto di riferimento per gli acquisti di materiale scolastico, materiale per l'ufficio, tutti gli articoli di cartoleria, articoli di regalo, giochi, facciamo i laboratori creativi gratuiti per i bambini e da pochissimo tempo anche lo sportello aperto per quanto riguarda le pratiche di caffè e fatto un altro. Molto bene, Fabio. Quest'anno avete deciso di partecipare e contribuire anche a voi all'evento che tutti aspettano qua in parrocchia, il Maggio Navatorio. Sai già cos'è? Perché avete deciso di contribuire e di partecipare? Beh, diciamo, sicuramente so cos'è, nel senso che ho partecipato io in prima persona quando ero più giovane e abbiamo deciso di partecipare e contribuire per comunque dare la possibilità anche alle nuove generazioni di partecipare a questa bellissima manifestazione che sicuramente dà vintare il quartiere. Cosa ti aspetti quest'anno del Maggio Navatorio? Beh, sicuramente che porti tanto spirito di aggregazione e che ci sia tanta partecipazione da parte del quartiere e che i bambini si divertono, che è la cosa principale. Molto bene, quindi il Maggio Navatorio è? Anche mio. È anche mio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.